ciao a tutti ragazzi sono fabrizio salvati della speedy brain il vostro consulente e commerce amazon allora 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 ragazzi mi raccomando prima cosa iscrivetevi al canale subito fatelo ora sennò un po dopo vi dimenticate e soprattutto cliccate sulla campanellina per essere notificati su quando usciranno nuovi video ragazzi do dei contenuti gratuiti incredibili che non trovate neanche le corsi a pagamento quindi iscrivetevi importantissimo e cliccate sulla campanellina e soprattutto lasciatemi qualche commento ok allora strategie 2022 step by step che cosa farei io fabrizio salvati con la mia esperienza se dovesse iniziare a vendere ora nel 2022 quali sono soprattutto le prospettive per questo anno e anche per gli anni futuri per quanto riguarda la vendita su amazon allora partiamo proprio da quest'ultimo argomento le prospettive ragazzi sono incredibili ok sono incredibili perché continuerà a espandersi avete visto che amazon schiaccia sassi continua a macinare utili su utili aumentano sempre di più flussi la gente non è in grado anche i concorrenti di star dietro a un colosso del genere quindi bisogna assolutamente vendere su amazon le prospettive sono incredibili è vero ragazzi si è più difficile vendere in quest'ultimi periodi perché comunque bisogna farlo in maniera molto più professionale ma soprattutto anche perché sono aumentati tantissimi volumi quindi per dato che c'è questo aumento dei volumi significa che bisogna entrare con più soldi per star dietro ai volumi che ci sono ragazzi la pandemia veramente sta sta facendo veramente esplodere ancora di più questo business immaginate pure tutti coloro che si rompono andare nei negozi quelli che non hanno il green pass o quelli che si rompono del green pass che viene chiesto nei negozi o ad esempio tutti quelli che hanno pure paura di andare nei negozi per infettarsi ragazzi c'è un vero e proprio boom ok i volumi stanno veramente aumentando e lo vedo dalle keyword che di mese in mese e crescono sempre di più rispetto all'anno precedente i volumi di ricerca quindi ragazzi è impensabile chi è che vuole vendere deve stare su amazon poi è logico che potete fare pure delle dei ragionamenti differenziare su altri business per aprire il vostro e commerce proprietario tal proposito quindi ragazzi per qualsiasi consulenza sapete che qui c'è il mio i miei contatti sia whatsapp email info chioccio la speedy brain punti t se siete investitori volete partire e vendere vi posso seguire dalla z se siete avete un'attività quindi avete anche già dei rapporti privilegiati perché conoscete fornitori o avete già un'attività commerciale ragazzi sono il consulente giusto per voi già seguo svariate aziende piccole grandi medie e sono in grado veramente di far arrivare qualsiasi vostro prodotto tra le prime posizioni di amazon con una certezza praticamente assoluta cioè ragazzi veramente non posso dire ovviamente 100 per cento ma siamo a tassi di successo molto vicini appunto al al 100 per cento quindi fidatevi assolutamente con la mia tecnica peraltro è una tecnica che ormai utilizzo da anni a un tipo di lancio dinamico che praticamente va a analizzare durante il lancio le keyword del comportamento dell'algoritmo di amazon in modo da diciamo applicare i correttivi strada facendo giorno dopo giorno per far crescere le vostre e chi vuole far mandare tutte in prima pagina con l'investimento minore possibile ok mai super collaudato con oltretutto la possibilità di usufruire della mia esperienza soprattutto per fare analisi di mercato che vedo che manca tantissimo poi adesso vi racconto un po quello che mi succede in consulenza ottimizzazione sia dell'inserzione vi ricordo che tutte queste cose devono essere fatte insieme se manca un pezzo e poi non riuscite a sfondare ok bisogna fare le cose fatte in maniera super professionale ed essere eseguiti da un super professionista come me che vi indica da l'ala z a tutti gli step che dovete fare quindi contattatemi ragazzi se avete bisogno del mio corso vi do anche il mio corso gratuitamente però ovviamente a fronte di un certo numero di ore che comprerete ok quindi info chioccio la speedy black punti o mi contattate a questo numero whatsapp vi rispondo sempre solamente io ragazzi se non vi posso prendere in consulenza e perché sono già pieno quindi vi rifiuto però ragazzi importantissimo se volete fare questo business dovete per forza farlo in maniera super professionale che cosa mi succede in consulenza scopro che le persone iniziano a fare business senza sapere il prezzo medio di vendita aver fatto un'analisi della concorrenza aver fatto un'analisi della nicchia queste ragazzi sono tutte cose che dobbiamo fare all'inizio quindi se io mi trovassi come voi a dover investire nel 2022 che cosa farei la prima cosa ragazzi è trovare prodotti quindi ricerca prodotto e analisi della concorrenza e soprattutto analisi di quella che sarà la mia buyer persona di quella che sarà il mio potenziale cliente questo è un processo molto molto difficile ok bisogna sapere utilizzare l'untern a proposito dell'untern ragazzi utilizzate il mio link che vi lascio in descrizione di questo video se prendete l'untern con il mio link riceverete i tutorial gratuiti di italiano il gruppo facebook un corso gratuito amazon fba e tantissimo altro quindi link in descrizione oltre che ovviamente gli sconti del 10 per cento per sempre 50 per cento per il primo mese quindi ragazzi bisogna sempre partire dall'analisi di mercato dall'analisi dei prezzi e dall'analisi dei fornitori che mi venderanno questo prodotto che andrò a vendere devo avere delle certezze anche per quanto riguarda il sourcing del prodotto sapere a che prezzo mi venderanno il prodotto con assoluta certezza prima di poter validare un potenziale prodotto da vendere dopodiché si deve andare a analizzare la nicchia come si va a analizzare bisogna andare a vedere come vi ho detto in passato chi è che vende il prodotto a che prezzo lo vende soprattutto se sono produttori cinesi ragazzi è difficile starci dentro in quella nicchia se sono tutti i produttori cinesi o se c'è amazon in prevalenza e noi quello che dobbiamo vedere se ci sono degli altri piccoli diciamo venditori come noi che stanno sul mercato magari da un anno due anni e quindi per un tempo ragionevolmente lungo e che possono comunque fare business all'interno di questa nicchia altra cosa che dobbiamo andare a vedere è se i miei competitor fanno arrivare traffico dall'esterno quindi se notate che c'è una linea di demarcazione troppo netta tra i primi due tre venditori ed il resto cioè se i primi stanno a 30 mila 40 mila al mese e a partire dal quarto fanno 5 mila 4 mila al mese significa che i primi molto probabilmente faranno pervenire molto traffic molti acquisti dall'esterno quindi faranno stanno facendo del marketing per far arrivare delle tramite siti loro proprietari degli acquisti su amazon amazon sfruttano anche per la logistica quindi tutto questo ragazzi se ci sono venditori di questo tipo bisogna stare molto attenti perché quando andremo a fare un'analisi della nicchia con le potenzialità del prodotto dovremo tener conto di questo traffico esterno che arriva su amazon e bisogna quindi fare le opportune analisi per poi andare a stimare quanti pezzi effettivamente potrà vendere al mese e quindi andare a fare gli acquisti per i primi acquisti prendendo in considerazione questi valori per chi inizia e ha pochissima esperienza io considero sempre il prodotto europeo perché perché col prodotto europeo è vero che costa di più ma noi all'inizio doveva pure imparare a vendere quindi andare a prendere un prodotto europeo che per il quale magari spenderò di più però mi permetterà di farmela arrivare molto prima mentre con la cina ci vogliono a 90 120 giorni ma pure di più per approvvigionarsi col prodotto europeo di sovente basta anche un mese quindi mi posso permettere di prendere piccole forniture fare piccoli investimenti lanciare il prodotto se il prodotto funziona magari poi posso farmelo produrre in cina questa quindi un'altra strategia che io sto suggerendo ai miei corsisti peraltro vi fornisco anche il link del gruppo facebook e telegram di una trading company polacca che vi farà vi darà in esclusiva dei prodotti europei da vendere ovviamente in certi casi c'è abbastanza margine in altri casi non c'è abbastanza margine ma noi lo testiamo lo stesso perché noi vogliamo andare sul sicuro anche che io all'inizio un margine 0 margine 5 per cento impara a vendere vedo se il prodotto funziona testo il mercato dopo di che mi faccio produrre in cina e inizia a marginare ok una strategia veramente a basso rischio che consiglio a chi comincia a fare questo business quindi ragazzi contattatemi se volete i miei corsi se volete la consulenza se volete offrire anche dei prodotti europei vi metto in contatto con il gruppo per fare anche questo importantissimo ok ragazzi strategia a rischio zero quindi dopo che ho fatto un'analisi di mercato di prodotti ho trovato dopo ho trovato il sursi del prodotto più adatto alle mie esigenze gli altri step sono alquanto facili il più l'abbiamo fatto si tratta solo successivamente di andare a ottimizzare il listing sfruttando gli un ten andando a trovare le keyword più potenti soprattutto le long tail che utilizzeremo per il lancio lanciare il prodotto puntare tutto con il lancio dinamico speedy brain al posizionamento organico fondamentale ragazzi e se va bene questa fase con il posizionamento organico andranno bene anche le ppc ok il setup delle ppc ragazzi funziona io ho degli acos decenti se funziona il prodotto quindi andate a vedere i vecchi video se il prodotto non converte se non avete un conversion rate superiore al 15 20 per cento che su amazon la normalità significa che c'è qualcosa che non va nel prodotto possono essere le foto non può essere troppo attraente l'inserzione o può essere come di solente succede il prezzo se il prezzo significa che avete fatto male l'analisi e ritorniamo al discorso ok oggi avuto una consulenza dove proprio c'era questo problema il prezzo era troppo elevato quindi sebbene ci fossero un certo quantità di visite sulla pagina prodotto con tantissimi click il conversion rate era solo del 3 per cento ragazzi non funziona il commercio del 3 per cento per amazon è zero il problema qual era abbiamo fatto l'analisi il problema purtroppo era il prezzo non puoi vendere a 10 15 euro più della concorrenza se non fai marketing ok solo se fai marketing e quindi fai dei grandi investimenti di marketing puoi vendere a un prezzo più elevato perché cambierà la percezione ai potenziali clienti sulla qualità del prodotto e sui motivi per cui devono comprare un prezzo più elevato ok quindi queste sono praticamente gli step fondamentali per andare a vendere su amazon 2022 ovviamente ragazzi registrazione del brand fondamentale video video fatto bene fondamentale per fare anche dei ppc video la registrazione del brand fondamentale ragazzi per fare una cosa fatta per bene avere contenuti a più vi da uno slancio in più e soprattutto ragazzi non basta un prodotto due prodotti bisogna cominciare a pensare che dobbiamo raggiungere 5 10 prodotti prima di cominciare a vedere dei risultati seri ragazzi tutti questi consigli poi li andremo a implementare insieme se comprate le mie consulenze inclusive nel mio corso come fare a comprare i miei corsi o andate su www.speedbrain.it e ve li comprate direttamente lì online o mi contattate info.speedbrain.it magari ci facciamo anche una ghiacchierata al cellulare vi consiglio in base alle vostre competenze skills il corso e le ore di consulenza più appropriate per voi e vi inizio a seguire dalla A alla Z ragazzi non esiste fare tutto da soli non esiste fare solo un corso online non è assolutamente sufficiente fallirete al 99% non mai ce l'ho le statistiche ragazzi gli unici che vanno avanti sono quelli che poi vengono seguiti in consulenza quindi ragazzi contattatevi info.speedbrain.it tutto qui scritto whatsapp ancora più facile mi scrivete ci scambiamo le nostre opinioni e poi decidiamo di andare avanti magari ci sentiamo a cellulare quindi ragazzi iscrivetevi al canale e soprattutto cliccate sulla campanellina ci vediamo al prossimo video power ciao ragazzi